buongiorno raga oggi giornata di spesa azzurro buongiorno ben svegliata avete dormito dalle 9 ieri sera alle 7 bravi viola cucciola buongiorno avete fatto tanta nanna dalle 9 alle 7 di mattina ma sono tante nanne o anche il rutto questi purtroppo sono i regali del mio gatto che mi porta quasi tutte le mattine davanti casa prima me li portava sciocco ora ho cominciato anche up a portarli ehi no si parte già di prima mattina eh si parte già di prima mattina ehi no no mamma papu ciao buongiorno 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 vuoi andare fuori buongiorno vai no no non vai tu non vai stai paura di andare fuori giordino mamma mia che paura dov'è fiocco c'è anche è sabato figlioli la parola dice tutto il sabato è sabato figlioli la parola dice tutto il fatto è la giornata della spesa vero roi vero ma te non vieni eh vieni ora in macchina con me a portare sta roba però stai a casa va bene? che classe che classe vero ro? mi piace questa bella spesa? eh amore? eh quella si serve ci si fa? eh? ci si fa? ci si fa? puoi ci si fa? ci si fa? ci si fa? ecco qua mi piace questa bella? ci si fa? ci si fa? ci si fa? ci si? ci si fa? ci si? ci si? ci si? Non è vero, non è vero. vai vai fenomeno fenomeno e via faccio posto a tutti eh sto preparando la sciabatta dopo andate a vedere anche il video della preparazione della sciabatta mi raccomando guardate bella che sta avvenendo guardatela mi raccomando eh vedete anche i video che faccio dei miei impasti mia figlia azzurra è già al lavoro per fare i danni ma vi immaginate voi quando questa figliola camminerà per bene e quell'altra che danni faranno per la casa? queste faranno più danni della grandine c'è bella roba amore la dentro eccola eh oddio oddio cascata in diretta aiuto amore com'è la sciabatta con le verdure di babbo è buona? è buona? si allora finalmente il frigo che voglio io strapieno le mie farine di ogni tipo che spettacolo guarda là farina di mais farina di se poi c'è quella di riso ah quanta robina quanto mangiarino tanta ciccina ah che bellezza che bellezza e ora si prepara da mangiare l'anime vai zanete sono non sì 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 è arrivata anche l'ora di andare a nannina ci vediamo forse domani con un altro video è tornato Fiocco l'ho beccato sto maledetto mi era scappato il gatto e gli hanno spaccato i denti e su tanti dolorifici stafava e mi è scappato ma l'ho beccato e qui non lo vedete ma c'è buonanotte